Sta arrivando da noi Gaetano Auteri, ecco l'allenatore della Pescara, Massimo, a cui andiamo a chiedere subito cosa è successo negli ultimi 20 minuti. Il Presidente ha detto che sono arrabbiatissimo con chi è entrato dalla panchina. Io non mi nascondo, non mi sottrago neanche alle mie responsabilità, sono la guida di questo gruppo e quindi mi metto in primo piano. Sono deluso anch'io, ma serve a poco parlare, stiamo perdendo credibilità. Chiedo scusa a tutti, chiedo scusa ai tifosi, lo dico perché sono il diretto responsabile. È chiaro che non abbiamo fatto in quei 20 minuti quello che dovevamo fare, con l'intensità e l'aspetto caratteriale e agonistico giusto. Abbiamo fatto, però non serve dirlo, anche una buona gara. L'arbitro non c'entra nulla, qualcuno di noi si è lamentato dell'arbitro su un episodio di Eric Ormai. L'arbitro ha diretto una buona gara, è stato imparziale, non ha commesso errori. Il Presidente però si è lamentato con l'arbitro qui. Ma io non mi voglio attaccare adesso all'arbitro perché ci sono cose più importanti che noi non abbiamo fatto dal punto di vista della prestazione. Non tanto come squadra, perché per 70 minuti abbiamo giocato anche un'ottima gara, ma a chi lo andiamo a raccontare? Perché ci prendono in giro se poi dopo non chiudi le partite, se poi dopo chi entra, essendo fresco, non mette il giusto impatto agonistico o mette il giusto impatto caratteriale. Perché insomma, o ci metti l'aspetto agonistico o ci metti la qualità tecnica. Se la qualità tecnica viene meno, in alcuni momenti si corre presso l'avversario, non si concede neanche un centimetro. Questo non l'abbiamo fatto. Ma lei quindi è arrabbiato molto con chi entrava? Sono molto arrabbiato, ma sono arrabbiato, sono deluso. Ripeto, non mi sottraggo, tocca a me risolvere i compiti, le problematiche. Come? Facendo le giuste disamine e lavorando ancora più forte, ma soprattutto facendo le giuste disamine. È chiaro che sono deluso anch'io, però io non mi nascondo, sono il diretto responsabile. L'ho detto, non mi è mai successo nella mia carriera di avere un periodo così negativo, ma non mi sottraggo di sicuro alle mie responsabilità. Sono i responsabili di questo gruppo e tocca risolverlo col lavoro. Io credo che dalle sue parole si capisce che è molto deluso da chi è entrato e che magari una rosa così ampia comincerà a fare delle scelte drastiche. Possibile? Ma no, ma chi entra, chi viene scelto, io alleno tutti quanti nello stesso identico modo. Qui poi i fatti lo hanno dimostrato, le opportunità le hanno tutte. Poi dopo uno deve fare delle scelte, ripeto, si vive sui concetti di squadra. Se in alcuni momenti non si riesce a dare qualità, perché dal punto di vista tecnico magari non si è ingiornata, si compensa con la quantità, si compensa andando sotto palla, si compensa dipendendo una palla sporca, si compensa prendendo un fallo, si compensa rincorrendo un avversario, si compensa in tanti altri modi perché si gioca per l'obiettivo di tutti, non ci si smarrisce. E in momenti in cui la partita non aveva neanche un grande impatto agonistico, ecco, certo che sono deluso, però si può fare poco dopo. Sull'azione del gol e del pareggio ha qualcosa da recriminare oppure non è stato quello il problema? Abbiamo perso una palla che non dovevamo perdere, facile, perché però nonostante quello eravamo piazzati potevamo leggerla meglio. Io do l'auricolare alla tecnica Auteri, Massimo, per una domanda una da studio, ti ascolta in questo momento Gaetano Auteri. No, io volevo chiedere al Minister, concordo, intanto complimenti per la sua disamina, perché comunque si assume responsabilità, non c'entra niente l'arbitro, e quindi questa cosa mi è piaciuta, perché in altre occasioni invece magari era molto arrabbiato con l'arbitro. Ma io le volevo chiedere invece sulle sostituzioni, Ferrari per esempio, per motivi di natura fisica, anche se il giocatore ci ha detto che stava bene, Ferrari è un giocatore che ha fatto un percorso di lavoro con noi, e l'ho tolto dopo 60 minuti, 62 minuti, aveva corso tanto, per me in quel momento poteva essere più utile, perché c'erano più spazi, un giocatore con più di gamba, come De Marche, poi dopo il risultato è stato diverso dalle aspettative, questo uno lo sa dopo. No, no, lo sai perché glielo chiedo? Mister, no, no, ma al di là del risultato, non è col senno del poi, non glielo dico perché... No, ma col senno del poi non l'avrei fatto, perché sì, la partita in quel momento è la partita per le caratteristiche ideali di De Marche, e poi la squadra si è smarrita. Perché l'avevo visto particolarmente più acceso rispetto agli altri due attaccanti, per quello le facevo questa domanda. Cioè, secondo me, insomma, voglio dire che tu si è calato. In quel momento c'erano più spazi, due sono i motivi, Ferrari, io conosco bene chi alleno, Ferrari da lì in poi sarebbe calato, la partita era perfetta per le caratteristiche di De Marche, perché è un giocatore che ha gamba, e poi dopo invece gli effetti non sono stati quelli che era lecito aspettarsi, però questo uno lo sa dopo. Ma era solo una curiosità, la mia. Quelli che gli ho spiegato. Era solo una curiosità. Eh, gli ho spiegato questo.